come pecore in mezzo ai lupi un esordio alla regia pazzesco per un film che coniuga tantissimi aspetti tantissimi temi e tantissime difficoltà dall'azione al tema a temi emotivi sociali religiosi familiari ecco come è stato gestire tutti questi elementi insieme soprattutto in prima esperienza come regista intanto grazie mille perché mi è piaciuta questa domanda si porta dietro e allora per me questo film è stata una grande occasione un'occasione che cercavo desideravo e ho costruito negli anni e quindi diciamo che sono arrivata a questo esordio sicuramente con una grande aspettativa con una grande entusiasmo però con lentezza perché ci ho messo tanto tempo però questo mi ha permesso di avere in fondo potuto maturare un mio o quantomeno capire il tipo di linguaggio che voglio che voglio utilizzare e anche di potermi sentire sicura in certi aspetti mentre ne esploravo degli altri per cui avevo avuto poche possibilità in particolare per me questo film è stata la possibilità di creare dei personaggi di lavorare profondamente con con gli attori su questo e devo dire che fino ad ora mi ero cimentata di più con regie tecniche sulle scene d'azione oppure nelle serie nelle serialità che hanno una tempistica molto diversa e quindi in questo senso per me è stato un appunto un'occasione bellissima per poter mettere insieme tutto quello che mi piace che mi piace come spettatrice che mi piace fare come regista quindi che va dalle scene d'azione appunto oppure anche delle invece delle linee intime molto molto profonde da andare a indagare anche se poi ho cercato e credo abbiamo cercato di non mette non enunciare tutto ma di raccontarlo solo con dei segni per questo genere di film un poliziesco con tantissime scene d'azione appunto molto thrilling però la grande novità è la gestione del femminile qui perché la protagonista Isabella Ragonese un agente di polizia infiltrata con un passato alle spalle molto molto pesante una regista donna e anche tantissimi altri elementi anche il capo della polizia è una donna quindi insomma c'è una grandissima femminilità in un film in un genere che di solito vediamo gestito dagli uomini ecco mi piacerebbe conoscere il vostro la vostra posizione sia di Isabella che di Lidia ma anche di Andrea che ti trovi inserito in questo contesto noto per il cinema ma nuovo da un punto di vista narrativo drammaticamente nuovo perché io credo che non ci sia ragione che sia nuova anzi è giusto è vero è giusto quindi non è che possiamo far finta che non sia così però di per sé un problema perché non è normale che sia così cioè perché dobbiamo pensare che esistano dei generi maschili e ah che bello finalmente c'è una donna che li fa no è un dramma che fino adesso le donne hanno potuto fare così pochi film e sono state e hanno esplorato solo una parte che spesso è quella che gli è stata consentita perché poi uno può avere le sue idee i suoi sogni ma poi arriva il momento in cui devi farti finanziare il film e drammaticamente sono appiccicate delle etichette per cui ci sono dei dei generi più maschili nella testa spesso e nel purtroppo è nella consuetudine sì c'è sempre un po' questa idea della mosca bianca dell'eccezionalità ecco quando poi diventerà normalità anche perché per quanto riguarda la rappresentazione ecco anche il mio capo donna insomma nel film è anche la realtà cioè ci siamo esistiamo quindi sarebbe strano che non si raccontasse questo e anzi in un modo anche penso sia anche una grandissima occasione perché è come un territorio ancora vergine quindi ci sono anche raccontando le stesse storie da un punto di vista femminile abbiamo la la possibilità di percorrere terreni non già battuti da da altri mille milioni di volte quindi penso che di anche un twist diverso questo racconto da questo punto di vista anche se personaggio di vera stefania è anche abbastanza misterioso e anche poco in questo è stato fondamentale lavorare con l'ida perché penso che abbiamo evitato tutti tutti i pericoli dello stereotipo perché tutto è fuorché una figura stereotipata quella di del personaggio che abbiamo raccontato e e penso che questo punto di vista poi cambia anche molto nel racconto anche del maschile ma io penso che ci siamo auto incasellati nel tempo in delle regole sociali per cui il film d'azione un film da uomo quando facevo fatto il divincodino no è un film sul calcio quindi perché una legista donna doveva fare un film sul calcio forse è arrivato anche il momento di immaginarci come vari come tutto perché poi alla fine i risultati escono fuori sono belli e sono forse proprio ancora più belli perché raccontano un contrasto